Allora adesso dovrebbero suonare la distesa, il battiore delle undici sul primo campanone e poi la distesa della campana terza e quarta. Spero che il video sia di vostro gradimento e con questo godetevi la suonata, il cenno messa per la messa delle undici con le due campane minori e ci si sente dopo. A dopo. Grazie. 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 Grazie mille. 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 Grazie mille.